Nel 2013 la borsa ha chiuso con un rialzo totale del 25% Mi ha sembrato una notizia necessaria da commentare Anche perché per tutto il 2013 ho sentito dire che la borsa è in calo, la borsa è in calo, la borsa perde, la borsa è in calo E mentre me lo dicevano mi dicevo probabilmente mi devo preoccupare Perché se la borsa cala anche l'economia reale ne risentirà Invece la borsa ha aumentato del 25% e nell'economia reale non è cambiato niente Sempre nel 2013 c'è una notizia molto curiosa che dice che i paperoni, i paperoni del mondo insomma Quelli che sono titolari di grossi capitali abbiano chiuso un anno inattivo Un anno che è andato molto bene Questo mi ha incuriosito perché questa cosa che i capitali si riproducono Che il lavoro cala, che la borsa aumenta ma che l'economia reale non ne guadagna Mi ha fatto pensare ma da dove viene tutto questo? Facendo un salto indietro nel tempo si potrebbe partire da qua 1600 Lo Stato, la legge, il popolo Lo Stato fatto dal popolo che fa le leggi per il popolo, il famoso tridente democratico 1789, la rivoluzione francese, cadono delle teste e a volte tutto cambia perché non cambia niente 1920, Stati Uniti, due nomi, Bernie, Slipman Uno inventa l'esistenza commerciale, l'altro la cultura della visibilità L'esistenza commerciale e la cultura della visibilità 1940, seconda guerra mondiale 1944, Bratton Wood e qui è una sfida Minor Keynes contro Dexter White, la sterlina contro il dollaro Vince il dollaro, diventa la moneta degli scambi internazionali Nasce la banca mondiale e il fondo monetario internazionale 1950, uuuuh, viene pensato l'euro E nel 1980, poker Reagan, Thatcher, Cole, Mitterrand E' una visione del mondo che ha il potere e si chiama neoliberismo E da qui cambia tutto Tutto quello che aveva mandato avanti il mondo fino a questo momento non c'è più O meglio, non si smette di produrre Si risloca Cina, Brasile, India, Messico Intanto si risparmia E risparmiare a un termine tecnico si dice slimming down Slimming down vuol dire dimagrire E dimagrire per un'azienda vuol dire una cosa sola Licenziare 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 E in fondo era già storia Nel 1970 un signore di nome Fausto Amodei scriveva una canzone Che aveva un testo che più o meno faceva così Chi ha più ricco è interessato Che ogni suo lavoratore Pensi, anche se sfruttato Di ricevere un favore Perché sia riconoscenti Tutti quanti, tutti quanti gli sfruttati Faccia poi con lui lo stesso E non sta più nella pelle quando le opinioni altrui sono sempre uguali a quelle che fanno arricchire lui Che a più ritro c'è il problema di tenere ben nascosto Il principio che il sistema segue un certo presupposto Chi conosce, chi conosce la materia, chi conosce la materia sa che ricchi si diviene Solo grazie a tutti Solo grazie alla miseria di chi in fondo ci mantiene E non sta più in fondo ci sono sempre uguale a quelle che fanno arricchire lui Chi ha più ricco è interessato con il suo lavoratore Pensi, anche se sfruttato di ricevere un favore Perché sia riconoscenti tutti quanti gli sfruttati Basta che ci siano presenti i disoccupati Perché sia riconoscenti tutti quanti gli sfruttati Basta che ci siano presenti tanti bei disoccupati E non sta più nella pelle quando le opinioni altrui Sono sempre uguali a quelle che fanno arricchire lui Ovviamente questa cosa che Che più ricco diventa più ricco Che più povero diventa più povero Che questi capitali nel mondo si polarizzano E che si polarizza anche la ricchezza è soltanto una teoria Una visione Forse negativa ma Come diceva qualcuno Molto, molto, molto più famoso di noi Pensare male Si fa peccato Però in fondo Quasi sempre Si ha ragione